A rischio, Chirillo Fesenco, il lungo bianco-verde che ha saltato la trasferta di Nanterra, potrebbe rinunciare anche al match di domenica alle ore 12 contro la Deflex Pistoia. Il problema, post-operatorio allo ginocchio, continua e rende il recupero dell'atleta sempre più problematico. Nei giorni scorsi, approfittando dello stop forzato, il gigante ucraino è stato portato a Roma, dove è stato sottoposto ad una visita specialistica. A valutare le condizioni dell'atleta ucraino, il professor Pierpaolo Mariani. Avellino, visse le difficoltà, ha voluto ascoltare il parere del miglior consulente sulla piazza. Secondo il professore, il gonfiore che provoca il liquido fa parte della routine post-operatoria ed il giocatore dovrà essere monitorato quotidianamente. Intanto Fesenco, mercoledì, si è sottoposto anche ad artrocentesi, al fine di eliminare il liquido dal ginocchio. Il ragazzo prosegue la terapia in piscina, ma il suo impiego, domenica a Pistoia, resta a rischio. Nei prossimi giorni lo staff deciderà il da farsi, ma è probabile che Sacripanti possa decidere di rinunciare al suo gigante, per permettergli di riprendersi al meglio. Giorno dopo giorno, se ne saprà di più.